buona giornata amici da massimo fughetti oggi è venerdì 30 dicembre 2022 bentornati ben trovati anzi alla rassegna stampa di fanu tv vedremo le notizie del giorno ci sono molte notizie che riguardano un po un consultivo di tutto l'anno dato che mai siamo al termine del 2022 però passiamo come sempre dall'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia non un santo ma una famiglia intera è la sacra famiglia la santa famiglia è una festa introdotta nel diciassettesimo secolo nella chiesa cattolica e a celebrare la sacralità una festa che celebra appunto la sacralità dei gesti quotidiani compiuti in qualsiasi focolaio domestico e nel celebrare questa festa il pensiero non può che posarsi sulla casa di loreto dove la famiglia di gesù visse dell'umiltà nella unità e nella sintonia che dovrebbe essere un po l'esempio a tutti noi vediamo dunque le previsioni del tempo un tempo che vede la nuvolosità in aumento su tutta la regione Marche rispetto alla bella giornata di ieri dove il sole è apparso e ha schiarito un po quella tristezza che incombeva un po su tutto il territorio dato che le nubi oscuravano il cielo e quindi erano davo un colore molto grigio una sensazione molto malinconica nuvolosità in aumento durante la giornata maggiori spazi soleggiati sulle aree costiere le temperature massime si aggireranno tra i 14 e 16 gradi la minima sui 12 gradi leggera l'escursione termica i venti ispireranno sulle coste da una direzione debole da sud nell'interno debole da sud ovest le temperature come dicevo sono in leggero calo il mare è mosso ed ora apriamo il giornale da sul resto del carlino la pagina di fano ecco l'articolo di apertura ma l'apertura è anche sul corriere adriatico la stessa il 2023 sarà un anno strabiliante lo ha assicurato il sindaco di fano massimo seri nel esporre nel così fare la sua conferenza stampa di fine anno un consuntivo di tutte le attività svolte durante il 2022 e quelle che sono in itinere per il 2023 il sindaco seri ha illustrato che la città vedrà fiorire tutti i progetti messi in cantiere con fatica quest'anno è stato un anno faticoso ha detto il sindaco un anno molto laborioso ci sono stati molti progetti molti documenti da redigere per quanto riguarda il conseguimento dei finanziamenti del pnrr poi ci sono le difficoltà dovuti al caro bollette ci sono le difficoltà dovuti alla pandemia insomma è stato un anno non molto non facile per tutto l'apparato amministrativo dell'amministrazione comunale il sindaco ha parlato per 55 minuti ci informa oggi il resto del carlino per annunciare che il 2023 sarà un anno addirittura pirotecnico infatti giungono dovrebbero almeno giungere a conclusione tutti i progetti impostati molti progetti impostati e negli anni precedenti circondato da tutta la giunta compresa fabiola tonelli che ha ricoperto per diverso tempo l'assessorato ai lavori pubblici ed ora è stata sostituita da barbara brunori ebbene il sindaco ha fatto dicevo questo consuntivo ieri mattina la conferenza non a caso è stata tenuta nella darsena borghese uno dei progetti che è stato portato a termine con la sua bella passeggiata romantica che arriva fino al ponte della ferrovia ma che deve poi proseguire verso il faro in un secondo lotto dei lavori ebbene nell'anno 2022 sono stati messi in cantiere 50 milioni di interventi opere che dovranno poi trovare la loro conclusione anche nel 2023 2023 per esempio dovrebbe essere l'anno del piano regolatore generale che ormai è pronto e dal gennaio potrà partire il confronto con la città altra buona notizia invece è la messa in funzione della vasca per la raccolta delle acque a piazzale a Mendola inoltre ha dato per certa la proroga di sei mesi fino a giugno del 2023 da parte del MIT ovvero il ministero delle infrastrutture e trasporti dei 20 milioni di euro destinati alla variante di Gimarra questo era già stato detto durante l'ultima seduta del consiglio comunale quando è stata approvata di nuovo questa variante sperando che poi questa dilazione fino a giugno del 2023 possa essere seguita da un'ulteriore dilazione di un anno richiesto tra l'altro da molte amministrazioni comunale nell'ambito dell'assemblea dell'anci sembra invece ormai impossibile l'ulteriore coesione sociale richiesta da tutte le regioni italiane per quanto riguarda il progetto da 25 milioni dice il resto del carlino il sindaco invece speranzoso per quanto riguarda questo nuovo proseguimento appunto della attività burocratica perché ci vogliono poi progetti del progetto esecutivo e tutto il resto insomma tutto quello che serve per giungere all'attribuzione dei lavori nella finanziaria ha fatto notare seri non è stata prevista questa questo aspetto questo aspetto aspettiamo il decreto di mille proroghe ma se non sarà concesso entro il 31 dicembre rimarrà solo la prologa dei sei mesi e poi si vedrà come fare e come ottenere appunto come riuscire a rispettare questa data un accenno infine alla proposta del presidente corrado montanari a cui si deve la realizzazione della memo e del progetto della nuova biblioteca federiciana di riservare alla statua dell'esipo uno spazio probabilmente montanari l'ha gettata lì questa proposta non sembra comunque che questa sia una delle priorità della giunta della giunta seri la riqualificazione di sassonia e torrette lexagi piazza marcolini e costa la scuola di bellocchi rientrano invece nelle priorità e vediamo come invece il corriere adriatico annuncia il consuntivo di questa conferenza stampa vediamo qua il corriere pone in evidenza invece una notizia nuova che è stata annunciata ieri dal sindaco seri c'è la buona notizia last minute all'ultimo minuto riparte infatti la fabbrica del carnevale quella fabbrica del carnevale che a palazzo sant'arcangelo era rimasta sospesa per oltre sei mesi a causa di un ricorso un ricorso che all'inizio la seconda classificata aveva fatto nei confronti della prima che era stata appunto indicata dalla commissione che aveva valutato alle offerte che erano state presentate al bando per la concessione dei lavori aveva fatto un ricorso al tar e l'aveva vinto e quindi c'è stato un momento di imbarazzo da parte dell'amministrazione comunale però la ditta pensi che era la prima classificata ha fatto un ulteriore ricorso al consiglio di stato e questa volta il consiglio di stato ha dato ragione alla classifica che era stata stabilita dall'amministrazione comunale quindi ritorna a riaprioperarsi del cantiere la ditta pensi tutto questo travaglio di carattere burocratico ormai è finito ci si mette una pietra sopra e potranno proseguire i lavori del sant'arcangelo e anche qui ci sarà veramente un grande intervento elaborato da un grande architetto come italo rota che fa un po il contraltare a quello che sta accadendo nella biblioteca federiciana dove un altro architetto grande architetto cucinella sta per elaborare il suo grande progetto di nuova biblioteca federiciana c'è la buona notizia last minute riparte la fabbrica del carnevale il consiglio di stato ha dato ragione alla ditta appaltatrice riapre dunque il cantiere nella seconda pagina del corriere adriatico abbiamo invece una dichiarazione di enrico nicolelli del partito democratico per quanto avvenuto nell'ultima seduta del consiglio comunale dove è stata approvata di nuovo come dicevo prima la strada interquartieri la conclusione l'ultimazione della strada interquartieri attraverso le colline di gimarra un centrodestra opportunista su gimarra non dice il vero ha detto nicolelli lega e fratelli d'italia vogliono la strada ma dicono no per vantaggi politici insomma ci sarebbe una un no di di forma in realtà la sostanza è quella che la strada servirebbe a tutti questo secondo nicolelli invece un articolo di fondo è interessante perché evidenzia come l'amministrazione comunale si dia da fare per restaurare la fontana di piazza 20 settembre la fontana della fortuna uno dei simboli della città pensate che qualche anno fa le poste italiane nel pubblicare la serie dei francobolli dedicati a tutte le fontane italiane ha scelto anche la fontana della fortuna che ha avuto un momento così di pubblicità a carattere nazionale una fontana una statua realizzata durante il rinascimento non è ovviamente quella romana importanti strumenti di arredo in qualche caso anche di preziose testimonianze storico le fontane cittadine troppo spesso colpevolmente trascurate accade molte città e fa non si sottrae alla brutta notizia ha scritto Andrea Amaduzzi da salutare dunque con un giudizio favorevole l'intervento di manutenzione che è stato portato a termine a livello progettuale dall'assessore brunori e quindi nei prossimi tra breve non dico nei prossimi giorni o nei prossimi mesi non so sicuro ma dico soltanto tra breve anche la statua della fortuna anche la fontana della fortuna in piazza 20 settembre a frano a fano tornerà nel suo splendore giriamo la pagina e vediamo fossombrone pronti due nuovi autovelox sorveglieranno la flaminia i controlli elettronici saranno attivati via pergamino e a san martino del piano i due punti pericolosi per lo scorrimento del traffico lungo la flaminia che attraversa fossombrone anche qui ci sarà il grande fratello che vigilerà sul rispetto della segnalettica a monte porzio una jaguar tampona una vettura ferma paura per una donna e all'ospedale lo schianto è avvenuto lungo la cesanense la lancia stava per svoltare nel parcheggio di giommi calzature un terribile lo schianto che si è verificato ieri mattina poco prima delle ore 10 e vediamo anche la pagina di senigallia dove si parla della festa dell'ultimo dell'anno e anche del primo dell'anno il primo giorno del 2023 capodanno in piazza garibaldi niente vetro e petardi allo show i petardi sono un po' vietati in tutte le città italiane i sindaci hanno firmato l'ordinanza anche a Fano ieri il sindaco Massimo Seri ha firmato un'ordinanza che vieta l'uso di botti di petardi di fuochi artificiali come quelli che sono stati inseriti in un documento della prefettura quindi soltanto piccoli scoppi saranno tollerati ma si fa affidamento soprattutto sulla intelligenza della gente non spaventate gli animali non usate botti che possono essere pericolosi per le persone questo è un po' l'invito ma poi anche un ordine che viene diramato dalle forze dell'ordine pubblico e anche dalle amministrazioni comunali capodanno in piazza garibaldi niente vetro petardi allo show torna il concerto di San Silvestro a Senigallia per la prima volta nella nuova location occhio ai divieti che sono stati appunto emessi per la sicurezza delle persone torniamo ora al resto del Carlino dopo aver visto la prima pagina con la conferenza stampa di fine anno vediamo un articolo che riguarda l'attività consigliare in regione di Marta Ruggeri capogruppo del Movimento a 5 Stelle Ruggeri la regione nega risorse ai bisognosi e nello stesso momento intendeva ripristinare l'indenità ai consiglieri ricchi cioè a coloro che hanno un altro lavoro con stipendi superiori ai 3.500 euro questa è un po' la denuncia tra virgolette di Marta Ruggeri la capogruppo del Movimento 5 Stelle critica l'atteggiamento della maggioranza del Consiglio regionale in un bilancio già blindato per i contributi elargiti a favore dei comuni dell'associazione dei collegi elettorali di provenienza dei vari esponenti del Consiglio della Regione abbiamo visto anche ieri come il Consiglio abbia approvato lo stanziamento di 80.000 euro a ciascun consigliere che lo può indirizzare dove vuole non c'è stato spazio neppure per la memoria di Carlo Urbani per commemorare la resistenza ha detto Marta Ruggeri rifiutata la proposta anche di finanziare meglio la legge regionale approvata nel 2020 su iniziativa del Movimento 5 Stelle sugli incentivi per rimuovere e smaltire l'amianto negli immobili privati ad oggi mai finanziata anche la legge regionale per promuovere il libro e la lettura la maggioranza non ha accettato di prevedere lo stanziamento di 100.000 euro per il 2023 e per il 2024 poi la stessa sorte ha subito l'emendamento per la legge sul servizio di psicologia scolastica senza risorse anche la legge regionale sull'assistenza alle famiglie che necessitano di servizi per l'infanzia e sul sostegno della funzione genitoriale dunque proposte del Movimento 5 Stelle che sono rimaste in evase da parte della Giunta e qui ci sono le recriminazioni di Marta Ruggeri la Lupus infabula l'associazione ambientalista che interviene soprattutto per quanto riguarda i grossi interventi che possono impattare sul territorio questa volta attacca la ciclovia del Metauro la Lupus attacca un percorso folle ha dichiarato l'associazione contesta la scelta della regione di passare nei paesi piuttosto che sulle sedime della vecchia ferrovia questa è una vecchia battaglia condotta dal Movimento ambientalista che vede la soluzione più semplice per questa ciclovia nessuno è contrario alla ciclovia in sé per sé ma gli ambientalisti sono contrari al percorso che è stato indicato dalla regione piuttosto che farlo accanto alla ferrovia è un percorso un po' tortuoso che si inoltra un po' nella campagna poi ritorna verso la ferrovia poi ritorna ancora una volta lontano verranno sprecati 4 ettere di terra dice la Lupus infabula e saranno tagliate 40 piante di alto fusto e di qui la contrarietà Tutti vogliono il Natale di Stefi e Marti libro di successo per i bambini si tratta di un'opera scritta dalla fanese Stefania Schiaroli e la sua cagnolina protagonisti di un volume non è che l'ha scritto la cagnolina ovviamente la sua cagnolina protagonisti di un volume per i più piccoli venduto anche in Europa un grande successo di Stefania Schiaroli che vediamo qui nella fotografia con il libro e la sua cagnolina Stasera un altro appuntamento jazz alla Pinacoteca Malatestiana la bella serie di concerti all'interno del museo alla Pinacoteca si ascolta musica in un contesto molto bello di opere d'arte quindi un ambiente particolare e suggestivo e poi il Teatro della Fortuna un concerto sinfonico per l'arrivo del 2023 a Teatro Vanno a Ruba dice il resto del Carlino i biglietti per il concerto di Capodanno che sarà interpretato sarà appunto come protagonista l'orchestra sinfonica Rossini vediamo ancora quello che accade nella Val Cesano Guardia Medica ancora a singhiozzo purtroppo la sanità nonostante che ormai siamo agli sgoccioli dell'azienda sanitaria ha ancora molti problemi il 2023 non comincia nel migliore dei modi per la gestione delle postazioni di Pergola e Mondavio per quanto riguarda la Guardia Medica un servizio essenziale per tutte le località anche per quelle della costa ma soprattutto per quelle dell'entroterra da dopodomani al 31 gennaio su 42 turni complessivi 11 turni e 31 notturni sia nella città dei Bronzi ovvero Pergola che nel comune della Rocca Roveresca quello Mondavio saranno coperti solo 26 poco più del 60% mentre per 16 volte il medico della continuità assistenziale sarà assente e quindi quando uno sta male si troverà nei guai facendo il compito di entrambi i presidi dei 42 turni del mese 14 saranno doppi cioè coperti sia a Pergola che a Mondavio 24 vedranno la presenza del medico o nell'una o nell'altra postazione insomma se c'è a Mondavio non c'è a Pergola o viceversa e 4 saranno contemporaneamente scoperti non ci sarà né qua né là e quindi insomma la situazione è certamente precaria a Urbino invece c'è un progetto per ogni angolo della città anche il sindaco di Urbino Maurizio Gambini ha fatto la sua conferenza stampa di fine anno orgoglioso ha detto di avere una forte presenza femminile al governo e qui vediamo i volti di tutte le donne che fanno parte della giunta Gambini vediamo solo due uomini il sindaco stesso e un altro assessore il turismo a Urbino intanto va forte il bilancio è in equilibrio parlano gli assessori per tutti un lavoro senza sosta anche per stare dietro la ripresa e i fondi del PNRR che costituiscono una occasione eccezionale per tutte le amministrazioni comunali e poi in questa seconda pagina dedicata ad Urbino si parla di sanità risponde l'area vasta alle critiche che sono state pubblicate e espresse nei giorni scorsi l'area vasta risponde alle polemiche di questi giorni la pressione sul nosocomio urbinate dipenderebbe dalle influenze ebbene l'aumento dei ricoveri dipenderebbe dall'andamento epidemiologico stagionale quest'anno gravato in parte dalla recrudescenza del covid dall'altra invece dall'apparire dall'intervento della influenza due situazioni che sommandosi hanno provocato l'aumento dei ricoveri in ospedale e questa sarebbe la causa per cui ci sarebbe un super affollamento nell'ospedale di Urbino il nostro ospedale è sempre il riferimento dell'entroterra l'assessore comunale alla sanità Elisabetta Foschi era sicura non rischiamo più cosa che accadeva prima con il partito democratico ha detto quindi una sfezzata anche di carattere politico e a Urbani già si parla di Befana la Befana ha già prenotato le chiavi d'Urbania dal 4 al 6 gennaio grande festa come in un'epoca pre-covid ritorna dunque la Befana con tutto il suo carico così di colore di festività di allegria soprattutto per i bambini alla vecchina il controllo dei divertimenti per i più piccoli la Befana di Urbania è pronta a rimettersi in pista e qui un bello articolo riprendiamo ora il Corriere Adriatico dopo aver visto la pagina di Senigallia e la pagina di Fano vediamo l'articolo che riguarda Pesaro e vediamo come l'ex pramante è tornato sul mercato e dal cilindro spunta anche un compratore l'operazione è legata al progetto del Comune sull'interramento della Statale quel sottopasso che dovrebbe costituire una grande direttiva una grande prospettiva diciamo così da via Rossini fino alla palla del Pomodoro l'operazione è legata all'interramento della Statale la Statale Adriatica via della Vittoria che dovrebbe andare in quota per poi riemergere e proseguire verso il curvone che poi porta verso la chiesa del porto di Pesaro contenitori vuoti del centro e mare spiragli per l'ex bramante con un nuovo potenziale acquirente mentre l'Inps punta a creare una struttura turistica per anziani benestanti a Villa Marina sono opere importanti che potrebbero vedere la loro realizzazione o all'inizio almeno dei lavori nel 2023 al lavoro per la Capitale della Cultura ma servono nuovi alberghi e di qualità per il Sindaco Ricci il tema è centrale spera in investitori da fuori città intanto si è aperto il cantiere dell'ex Cruiser gli alberghi si fanno belli per il 2024 quando Pesaro dovrebbe raccogliere molti molti turisti sono previste moltissimi eventi moltissime manifestazioni per evidenziare il ruolo di Pesaro capitale nazionale della cultura lavoriamo per questo evento ma mancano almeno dieci nuovi alberghi ha detto il Sindaco Ricci intanto i pesaresi affittano ai turisti ma gli appartamenti non si trovano perché le famiglie sono in difficoltà abitativa la ricettività turistica è un problema da risolvere appunto per il Sindaco di Pesaro Parco del San Bartolo ora si cambia finita l'era della gestione dei soliti noti dei soliti nomi noti Bellocchi di Fratelli d'Italia porta a casa la riforma e replica al Partito Democratico e Sindaco non è il vostro giardino di casa ha commentato con una sferzata dalla sede del Consiglio Regionale Nicola Baiocchi è rientrato a Pesaro che era giorno fatto dopo una lunga seduta che è durata nel corso della notte per poi tutta l'approvazione di importanti argomenti in discussione siamo a fine anno e quindi i consuntivi si fanno da tutte le parti Conero Gola della Rossa porta la firma insieme a rappresentanti di Fratelli d'Italia anche di Jessica Marcozzi e dell'attuale assessore Chiara Biondi ci sono diversi provvedimenti che sono stati approvati dall'ultimo Consiglio Comunale ma quello che a noi interessa più da vicino è quello del Parco di San Bartolo che ora cambia la gestione i cantieri sono al rush finale ora è tempo di tagliare i nastri dal nuovo municipio di Vallefoglia al depuratore le inaugurazioni di Palmiro Ucchielli il sindaco di Vallefoglia dopo gli anni che hanno caratterizzato l'inizio dei cantieri il 2021 e il 2022 ecco l'anno delle inaugurazioni anche qui giuncono al termine molti lavori e questi vengono evidenziati da questo articolo pubblicato sulle Corriere Adriatico con firma Luca Senesi vediamo anche la pagina di Urbino sul Corriere Adriatico contro di me può candidarsi il mondo io sono sereno stiamo lavorando bene il sindaco di Urbino mostra muscoli archivi del passato dandosi un 10 ed elenca gli impegni futuri ebbene all'enfant e così esordisce l'articolo di Eugenio Gulini è il motto francese utilizzato dal sindaco Maurizio Gambini alla conferenza stampa di fine anno che è stata tenuta alla data orto dell'abbondanza emblema del rilancio appunto della città un rilancio culturale soprattutto infrastrutturale della città di Urbino le location sono importanti per esempio il sindaco di Fano vi ricordo ha scelto ad Arsena Borghese insomma sono luoghi dove l'amministrazione comunale è già intervenuta riqualificando le strutture e appunto dando un incentivo all'aspetto socio culturale della città siamo in conclusione voglio solo segnalarvi due titoli di sport pubblicati dal resto del Carlino Tonucci per la visse a un passo dalla società pesarese piace anche Crecco invece a questo Fano manca una pensata 800 milioni è stato questo il consultivo del bilancio del presidente russo ne spendiamo uno a fronte di 200 mila euro di entrate fino a quanto resisteremo ha detto il presidente c'è un ammanco di 800 milioni e chi lo coprirà punto interrogativo con questo interrogativo io termino la nostra rassegna stampa e vi do appuntamento domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci